Questo progetto sarà sviluppato quasi esclusivamente da loro con l'aiuto di alcuni tecnici naturalmente e i ragazzi delle scuole, degli istituti comprensivi di campi e di civile della Torricella andranno a realizzare dei video con un'immersione totale, con delle riprese VR, con una telecamera a 360 gradi e poi verranno pubblicati sul nostro sito Eco Innovatori. La particolarità è che permetterà di riconoscere i nostri territori, i nostri musei architettonici ma anche i nostri musei naturalistici, in modo diverso dal solito, molto più puntuale, molto più preciso e ci permetteranno di vivere un'esperienza che fino ad oggi non è stata mai fatta. Verrà messo in mostra il territorio ma verranno anche tra virgolette formati i ragazzi alla nuova attività. Sì, parteciperanno tutti i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado. Al termine verranno selezionati 12 ragazzi che andranno proprio a realizzare il lavoro con queste riprese fatte con droni e fatte con telecamera a 360 gradi e verrà fuori un prodotto molto particolare e molto carino.